Cresce la speranza per la riapertura degli esercizi commerciali, nonostante le difficoltà del momento, tracchiamo il proprio lavoro e si rimbocca le maniche per far quadrare i conti e mantenere vivo il proprio business, anche se non è e non è stato così semplice per tutti. Un sospiro di sollievo per la città intera dunque, che dopo settimane in rosso intravede giorni migliori dettati dal colore arancione e persino dalla possibilità per i commercianti di aprire anche la domenica. Le saracinesche si rialzano, i negozi barbieri e parrucchieri estetisti riprendono in mano la quotidianità delle proprie attività, da quelle più giovani e quelle con una storia più lunga. Arriva l'ok da parte del COC, centro operativo comunale, alla proposta dell'apertura domenicale della vice sindaca, grazie a Giammusso con delega alle attività produttive, e sostenuta dal primo cittadino Roberto Gambino. La notizia viene annunciata anche tramite social. Insieme all'invito alla cittadinanza a prendere appuntamento per consentire alle attività di controllare gli ingressi, non creare assembramenti, rispettare le regole che ormai ci accompagnano da mesi, e cioè il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina e l'igienizzazione delle mani. Buone notizie anche per quanto riguarda il mercatino del sabato, che potrà ospitare nuovamente tutti i settori e non soltanto quello alimentare.